ciao a tutti buongiorno oggi questo video vi farò vedere il prossimo progetto che ho intenzione di portare avanti questo è il progetto attuale è la moto attuale che sto facendo che chi non mi ha visto lrx 125 world champion replica che ho comprato quest'anno ho già smontato il motore ho già rivisto cambiato i cuscinetti messo a posto il motore adesso ci manca solo di guardare mi manca solo la forcelle in mono e tutto il telaio rivedere telaio e ciclistica e poi questo progetto sarà a posto ma passiamo dall'altra parte che vi faccio vedere il nuovo progetto la nuova moto che voglio fare ed eccola qua voilà questa è la benelli 2 c 125 che ho trovato qua nella mia zona che ho comperato un mesetto fa e l'idea è questa l'idea è quella di fare una moto stile gran premio dedicarla a pasolini ok che pasolini ha vinto molte volte con la benelli lui correva con la 500 ma anche forse con la 350 adesso non mi ricordo bene e questo è il progetto benelli si presenta così senza cerchi io ho trovato un cerchio a raggi ho trovato ciò avevo un cerchio raggi derivazione onda ci sta su pennello mentre dietro c'è un grimeca avanzato da una gilera però non so sono indeciso io appunterei più sui raggi e l'idea è quella di riprenderlo cambiare il serbatoio mettergli un serbatoio da corsa più lungo parafanghi eccetera abbassarla vediamo praticamente di farla diventare una moto da gran premio anni 70 dai lasciatemi nei commenti quello che ne pensate se vi piace prossimo progetto quanto mi interessa e poi finito la briglia innanzitutto vi faccio vedere il motore il motore ormai è chiuso prossimo video lo vedrete a chiusura del motore ma rimane solo la questione cilindro pistone eccetera eccetera e accensione poi vi voglio fare solo vedere un colpo questo progetto un attimo questa era una mini moto che io ho fatto da zero con telaio aprilia aprilia rs max viaggi penso era dedicata sr sr 50 viaggi questo è motore purtroppo dico raffreddato d'aria io ho preso riutilizzato adattato motore che agiva a letta elettra ed è questo è quello che ho avanzato il motore lo vedete qua sotto chiesto era un motore che sta su la moto lì questo è un altro progettino che ho fatto ed è fermo da un bel po questo ha bisogno questo bisogno questo questo progetto non lo prenderò subito in mano perché ha bisogno ha bisogno di qualche parte in alluminio che dovrò fondere cercare di fondere e lavorare sulla fresa e sul tornio in modo da fare qualche bel pezzo d'alluminio perché l'intenzione non è quella di tenere questo telaio senza ammortizzatori senza ammortizzatore dietro eccetera eccetera ma è quella di proprio di sviluppare una piccola mini moto fatta fatta da me lo serbatoio serbatoio volevo farvi solo presente che il serbatoio rimane a sotto un serbatoio di lamiera d'acciaio come la onda come la onda a 500 degli anni mi sembra 90 che aveva il serbatoio sotto il gruppo motore sopra e qui c'erano le marmite ok dai fatemi sapere cosa pensate del progetto benelli ciao